La figura di Guido Gozzano e le motivazioni che l'hanno spinto a intraprendere il viaggio in India sono stati al centro del convegno organizzato dal settore informazione del consiglio regionale e dalla biblioteca della regione. Il mondo esotico ha ispirato numerosi scritti del letterato, incuriosito dalla natura e dalle città che ha visitato. Un omaggio a uno dei più grandi poeti italiani in occasione del centenario dalla morte. Grazie